A una velocità compresa tra 7 e 160 km orari, l'impianto freni di emergenza attivo misura la distanza dal veicolo che precede. Se viene rilevato un rischio di urto, l'impianto frena automaticamente per evitare l'impatto o limitare i danni conseguenti. A una velocità compresa tra 7 e 60 km orari, se viene rilevato un rischio di urto con un pedone, viene visualizzata una spia sul quadro della strumentazione e, a seconda del veicolo, anche sul display HUD insieme a un segnale acustico. Se il rischio è imminente, il sistema attiva i freni finché, se necessario, il veicolo non viene arrestato completamente. Il sistema viene attivato a ogni inserimento dell'accensione. Potete disattivare questa funzione. Io ti lascio l'abbiamo a tutti? Ti lascio! Grazie a tutti